E nessuno pensi che se noi ci prestiamo ad essere la porta del terrorismo islamico per il resto d'Europa potremmo essere immuni, perché non siamo immuni dal terrorismo che ci odia e ci vuole uccidere. Deputato Migliore, prego. Presidente, Presidente, Presidente. Colleghi, per favore, abbassate i cartelli, per favore, perché devo fare intervenire gli assistenti parlamentari, se no, per favore, per rispetto agli assistenti parlamentari, intervenite allora. Per favore, Del Mastro, Del Mastro, per favore, su. Deputato Migliore, prego.